Loro sono partiti, avevano un passo molto più aggressivo, molto più veloce, sicuramente anche loro hanno fatto una buona partita, però noi dovevamo un po' all'inizio abbiamo perso un po' di misure, eravamo molto lunghi, abbiamo lasciato un po' dei contropiedi pericolosi, però poi la squadra si è accorciata e noi non siamo una squadra che può giocare palla lunga su un assi, ci perdiamo tanto, ci allunghiamo tanto e questa squadra perde le misure e va in difficoltà. Al secondo tempo abbiamo fatto molto più possesso, abbiamo giocato molto su cupa alla terra, non abbiamo dato il punto di riferimento e sicuramente ha giovato nel gioco. Credo che siamo contenti della prestazione, anche se non è stata molto continua, però questi ragazzi non si può dire mai che non si sono impegnati o non hanno veramente. Anche oggi noi avevamo delle difficoltà fisiche anche prima della partita, però non nascondiamo queste cose, ne nascondiamo perché credo che non vogliono dare vantaggi agli avversari, però avevamo due o tre giocatori che venivano da un affaticamento perché il campo di Cava aveva dato questo affaticamento ai flessori, però hanno dimostrato questo attaccamento a questa società, a questi colori, a questa città, volendo partecipare a una prestazione che era importante, sentita. Dispiace per non aver dato un'altra vittoria a questa squadra, però noi continuiamo su questa striscia positiva, siamo contenti, vedete i risultati, questo campionato diventerà sempre più difficile, non ci saranno più campi facili. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto, con molte ripartenze da una parte all'altra, dove tutte e due le squadre potevano fare gol, noi abbiamo avuto tre o quattro situazioni in cui potevamo sicuramente concludere meglio. Il secondo tempo è subinata la fatica, di contro c'è sempre una signora squadra come il Gela, è normale, si è abbassato il ritmo, ci siamo messi un pochettino più indietro, però abbiamo controllato bene se non nell'ultima situazione in cui ha fatto la parata il portiere. Sappiamo che venire qua è sempre difficile, però per noi era importante venire a fare un risultato positivo per cercare di guadagnare più punti possibili in questa lotta a salvezza. Ma se dovessimo dire Dolendi migliori in campo? No, io non sono d'accordo, perché alla fine, miracolo se ce n'è uno, miracolo ce n'è uno. Conclusioni proprio nitide sullo specchio della porta, tu per tu col portiere non ho viste, forse quella più clamorosa è stata quella del primo tempo noi con Bello, che non si è capito in mischia com'è finita, però Dolendi fa parte della sacraldese e quindi benvenga se fa una prestazione del genere.